La finestra gestione allarmi. La finestra gestione allarmi mi permette di avere evidenza degli allarmi inseriti fino a quel momento e dello stato in cui si trovano, quindi se sono attivati o sono ancora in attesa di attivazione, per accedere a due alternative. La prima, la più veloce, mi permette di richiamare la finestra di gestione allarmi tramite l'icona dedicata presente nella barra delle icone. Come sempre il tooltip mi aiuta a identificarla meglio nel caso avessi qualche dubbio. Diversamente posso passare dal menu di navigazione cliccando sulla voce prima servizi e poi su gestione allarmi. Vedremo comparire all'interno della piattaforma la nostra finestra di dialogo. Attraverso questa finestra posso, per gli allarmi inseriti fino a quel momento, verificare lo stato in cui si trovano, se si sono quindi attivati o meno e posso decidere se modificarli o cancellarli. Vediamo lo stato nella prima colonna a sinistra, quindi E in verde sta a indicare che l'allarme si è già attivato, quindi ha già ricevuto il segnale. La W, quindi Waiting in rose, sta a indicare che l'allarme è in attesa di attivazione. Invece, per modificare o cancellare, cliccando col tasto destro sul titolo dell'allarme appare il menu contestuale. Vedremo che rispetto alle visualizzazioni precedenti sono apparsi due voci, quindi elimina o modifica. Ovviamente cliccando su elimina andrò a eliminare l'allarme. Diciamo ok, vediamo che CHL Industria verrà modificare lo stato in D, quindi cancellato. Se invece volessimo modificare l'allarme su generali, andremo a selezionare la voce modifica, si ripresenta la stessa finestra di dialogo e qui andiamo a impostare il valore da 16,45 a 16,43, diamo conferma e il nostro allarme verrà modificato. Segnale inoltre, che anche da qui, sempre dal menu contestuale, è possibile inserire un nuovo allarme su uno dei titoli per cui era già presente un allarme, quindi senza doverlo andare a richiamare dai tabelloni. Per esempio, Salvatore Ferragamo, allarme già attivato, per inserire uno nuovo basta cliccare sul tasto destro, riselezionare la voce allarme e ripartire con la procedura come fatto prima. Una volta impostati i valori, possiamo dare conferma e a presto. Ciao! Ciao! Ciao!